Il casco spaziale non gli farà sentire l'odore! Raffreddarla tutta! Mammoth, aiutate Blaze! Ci serve più acqua! Infine, ci serve un braccio di sollevamento così potente da muovere il martello demolitore! Non dirlo a nessuno! Io voglio diventare un cavaliere della tavola rotonda! Mi basta estrarre la spada per diventare Sir Cilindrotto del lago!